l'angolo giusti il calcio a 360 gradi a cura di Natale Giusti per la rubrica l'angolo giusti questa settimana analizziamo tatticamente il prossimo avversario del Napoli che sarà il sassuolo che è allenato dal nuovo tecnico Beppe Iachini che è succeduto a Bucchi che aveva iniziato la stagione alla guida della squadra emiliana il sassuolo di Beppe Iachini è al quindicesimo posto nella classifica di serie A con 27 punti a più 3 sul crotone che è terzo ultimo e che in questo momento sarebbe in serie B lo score del sassuolo parla di 18 gol fatti e di 48 gol subiti con i 18 gol fatti si tratta del peggiore attacco del campionato infatti anche il Benevento che è ultimo nella classifica di serie A il Benevento con 19 gol segnati ha fatto un gol in più del sassuolo e quindi praticamente ciò fa del sassuolo appunto il peggiore attacco del campionato mentre con i 48 gol subiti è la sedicesima difesa del campionato quindi praticamente la quintultima difesa della serie A i giocatori del sassuolo con più gol segnati sono stati Politano e Matri con tre reti segnate Babacar Falcinelli e Berardi con due gol Sensi Missiroli Goldaniga e Peluso con una rete siglata Iachini dovrebbe mandare in campo il sassuolo quindi la sua squadra con un atteggiamento speculare rispetto alla squadra del Napoli di Maurizio Sarri quindi praticamente modulo 4-3-3 con la seguente formazione molto probabile con consigli in porta linea difensiva 4 composta da destra verso sinistra da Lirola Goldaniga l'altro difensore centrale sarà Acerbi e a sinistra troveremo Peluso il terzetto di centrocampo sempre da destra verso sinistra sarà composto da Missiroli Sensi il vero e proprio regista di questa squadra e Mazzitelli a sinistra in attacco troveremo il terzetto costituito da Berardi a destra Babacar al centro e Politano a sinistra Iachini sabato scorso a Udine ha giocato col 3-5-2 ma è molto probabile che contro il Napoli ha lo scopo anche di limitare il raggio di azione soprattutto dei centrocampisti del Napoli molto probabile dicevamo che Iachini si metta con un atteggiamento speculare quindi con il 4-3-3 del resto la rosa del sassuolo è plasmata proprio per giocare col 4-3-3 che poi in pratica era il modulo che era caro al primo allenatore a Bucchi con cui questa formazione ha iniziato la stagione prima che poi Bucchi venisse esonerato dopo una brutta sconfitta con il Verona il suo posto appunto venisse preso da Beppe Iachini in difesa come centrale difensivo Goldaniga ex Palermo ha ormai preso in pianta stabile il posto che è stato lasciato libero da Paolo Cannavaro che a gennaio appunto ha lasciato il sassuolo e ha raggiunto il fratello più famoso il fratello Fabio in Cina e Iachini sembra aver dato un nuovo smalto soprattutto al reparto difensivo di questa squadra che subisce molte meno reti nell'ultimo periodo sui due esterni nel settore difensivo troviamo Peluso a sinistra e Lirola a destra che assicurano una buona spinta oltre a garantire le giuste coperture difensive al centrocampo come dicevamo già prima il metronomo vero e proprio di questa squadra è Senzi ex Cesena ed ex obiettivo di mercato del Napoli già ai tempi di Rafa Benitez probabile che lo stesso Senzi sia deputato alla marcatura di Giorginio al fine di limitare il raggio di azione del regista del Napoli nonché della nazionale in attacco le due frecce di questa squadra si chiamano Berardi che è un po' sfiorito negli ultimi tempi e Politano che come tutti saprete è stato il vero e proprio oggetto di desiderio del mercato del Napoli svanito proprio nelle ultime ore del mercato e che tra l'altro è il capocannonire di questa squadra insieme a Matri contro il gol come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda diciamo un po' l'analisi tattica più strettamente tattica appunto di questa squadra sia nella fase attiva che nella fase passiva. Il Sassuolo in fase attiva sarà sicuramente impostato contro il Napoli come abbiamo detto con il 4-3-3 con Berardi e Politano a imperversare sulle due fasce e a dare manforte all'unico riferimento avanzato che molto probabilmente dovrebbe essere costituito da Babacar che vincerà il ballottaggio con Matri. In fase passiva questo 4-3-3 diventerà molto spesso un 5-4-1 con uno dei due centrocampisti appunto Mazzitelli o Missiroli più probabilmente però Mazzitelli che ha più una vocazione difensiva a differenza di Missiroli che nella regina qualche anno fa lo ricorderete nasce praticamente quasi attaccante. Dicevamo uno dei dei centrocampisti Mazzitelli o Missiroli scaleranno sulla linea dei difensori dei quattro difensori mentre i due attaccanti esterni Berardi e Politano scaleranno molto spesso indietro a centrocampo lasciando solo Babacar come unico riferimento in avanti. Il 5-4-1 quindi nella fase passiva nella fase difensiva consente a Beppe Iachini di creare due linee di cinque difensori e quattro centrocampisti che creano densità e tolgono gli spazi agli attaccanti del Napoli. Poi ovviamente avremo quello che è il marchio di fabbrica delle squadre di Beppe Iachini cioè pressing asfissiante a tutto campo per limitare soprattutto il raggio di azione dei due attaccanti esterni del Napoli appunto soprattutto in signe a sinistra e Cagliecon a destra che eventualmente saranno presi dai difensori del Sassuolo anche con dei raddoppi che sono consentiti dalla linea difensiva che appunto diventa 5 in fase passiva. Quindi ecco spiegato il perché di questa linea difensiva 5 che in fase passiva potrebbe appunto assumere il Sassuolo in campo. Per quanto riguarda la possibile evoluzione di questa gara tra Sassuolo e Napoli che si svolgerà appunto al MAPEI Stadium di Reggio Emilia alle 18 sabato 31 marzo è una gara che ovviamente un po' come tutte le gare in cui il Napoli si ritrova ad affrontare un avversario che sulla carta è nettamente inferiore a se stesso è una gara che praticamente se il Napoli appunto riuscirà a schiodare presto dal risultato di 0 a 0 ecco che potrebbe mettersi in assoluta discesa per l'undici di Maurizio Sarri anche perché abbiamo detto che questa squadra segna molto poco il Sassuolo ha un attacco asfittico e praticamente è il peggiore attacco del campionato ha realizzato addirittura un gol in meno rispetto al Benevento che fa una linea di coda della Serie A. Quindi ecco una gara che se è sbloccata subito potrebbe mettersi in discesa per il Napoli altrimenti potrebbero poi subentrare delle difficoltà e quindi è una gara nella quale comunque ci vorrà il miglior Napoli ma il Napoli sappiamo che il Napoli in formato trasferta difficilmente delude le aspettative tanto più in un momento cruciale del campionato qual è appunto quello attuale con le prossime due partite appunto contro il Sassuolo sabato alle 18 e la prossima contro il Chievo in cui Napoli dovrà necessariamente fare bottino pieno se vuole appunto restare agganciato alla Juve prima poi dello scontro diretto allo Juventus Stadium che probabilmente deciderà un po' tutto il campionato 2017-2018 il 22 aprile appunto a Torino